Un caro saluto da Maria Giuliacci. Lo sopevate che una gocciolina di nube è costituita da circa 300-500 miliardi di molecole di vapore? Ebbene, la cosa potrebbe sembrare un po' strana, perché come è possibile che 300-500 miliardi di molecole di vapore si ritrovino in una frazione di secondo nello stesso punto, dando luogo a una gocciolina di nube? La statistica dimostrerebbe che se l'evento fosse affidato solo al caso, una gocciolina di nube si formerebbe una volta ogni 3 milioni di anni. Perché invece tutti i giorni vediamo formarsi goccioline di nube? Perché nell'atmosfera esistono particelle di polviscolo igroscopiche, come il sale malino, i sorfati e i nitrati che hanno la proprietà di attrarre miliardi e miliardi di molecole di vapore.